Ehi, so qual è il problema. Hai un Bruno in testa. Un Bruno? Già, capita anche a me. Alberto non ce la fai, Alberto ti fai male, Alberto non vorrai mangiarlo. Luca, è semplice. Non ascoltare quel babbeo di Bruno. Perché si chiama Bruno? È uguale, non importa. Chiamalo come vuoi, ma fallo smettere di... Silenzio Bruno! Sì, Lenzio Bruno. Più forte, tipo... Silenzio Bruno! Silenzio Bruno! Silenzio Bruno! Silenzio Bruno! Senti ancora la sua voce? Solo la tua! Bene! Ora reggiti! Andiamo!